da tre giorni il professor agostino toti non ha in casa quella pace quel riso a cui credo ormai di aver diritto ha circa settant'anni e dir che sia un bel vecchio non si potrebbe neanche dire piccoletto con la testa grossa calva senza collo il torso sproporzionato su due gambettine da uccello sì sì il professor toti lo sa bene e non si fa la minima illusione perciò che maddalena una bella mogliettina che non ha ancora 26 anni lo possa amare per se stesso è vero che egli se l'è presa povera e l'ha innalzata figuola del bidello del liceo è diventata moglie di un professore ordinario di scienza naturale tra pochi mesi con diritto al massimo della pensione non solo ma ricco anche da due anni per una fortuna impensata per una vera manna dal cielo una eredità di quasi duecento mila lira da parte di un fratello spatriato da tanto tempo in rumenia e morto ceri becola non per tutto questo però il professor toti crede d'aver diritto alla pace e al riso egli è filosofo sa che tutto questo non può bastare a una moglie giovane e bella se l'eredità fosse venuta prima del matrimonio egli magari avrebbe potuto pretendere da maddalena un po di pazienza che aspettasse cioè la morte di lui non lontana per rifarsi del sacrificio ad aver sposato un vecchio ma son venute troppo tardi ahimè quelle duecentomila lira due anni dopo il matrimonio quando già quando già il professor toti filosoficamente aveva riconosciuto che non poteva bastare a compensare il sacrificio della moglie la sola pensionzina che egli le avrebbe un giorno lasciata avendo già concesso tutto prima il professor toti crede d'aver più che mai ragione di pretendere la pace e il riso ora con l'aggiunta di quell'eredità vistosa tanto più poi in quanto egli uomo saggio veramente e da bene non si è contentato di beneficiare la moglie ma ha voluto anche beneficiare sì lui il suo buon giacomino già tra i più valenti alunni suoi al liceo giovane timido onesto garbatissimo biondo bello e ricciuto come un angelo ma sì ma sì ha fatto tutto ha pensato a tutto il vecchio professore agostino toti giacomino ad elisi era sfaccendato e l'ozio lo addolorava e lo avviliva ebbene lui il professor toti gli ha trovato posto nella banca agricola dove ha collocato le duecentomila lire dell'eredità c'era anche un bambino ora per casa un angioletto di due anni e mezzo a cui egli si era dedicato tutto come uno schiavo innamorato ogni giorno non gli parlo ora che finiscano le lezioni al liceo per correre a casa a soddisfare tutti i capriccetti del suo piccolo tiranno veramente dopo l'eredità gli avrebbe potuto mettersi a riposo rinunziando a quel massimo della pensione per consacrare tutto il suo tempo al bambino ma no sarebbe stato un peccato da chi c'è e gli vuol portare fino all'ultimo quella sua croce che gli è stata sempre tanto gravosa si è appreso moglie proprio per questo proprio perché ricasse un beneficio a qualcuno ciò che per lui è stato un tormento tutta la vita sposando con quest'unico intento di beneficiare una povera giovane egli ha amato la moglie quasi paternamente soltanto e più che mai paternamente si è messo ad amarla da che è nato quel bambino da cui quasi quasi gli piacerebbe più d'esser chiamato nonno che papà questa bugia incosciente sui puri labbruzzi del bambino ignaro gli fa pena mi par che anche il suo amore per lui ne resti offeso ma come si fa bisogna pur che si prenda con un bacio quell'appellativo dalla boccuccia di nenì quel papà che fa ridere tutti i maligni i quali non sanno capire la tenerezza sua per quell'innocente la sua felicità per il bene che ha fatto e che seguita a fare a una donna da un buon giovanotto al piccino e anche a sé sicuro anche a sé la felicità di vivere quegli ultimi anni in lieta e dolce compagnia camminando per la fossa così con un angioletto per mano ridano ridano pure di lui tutti i maligni che risate facili che risate sciocche perché non capiscono perché non si mettono al suo posto avvertono soltanto il comico anzi il grottesco della sua situazione senza saper penetrare nel suo sentimento ebbene che gliene importa egli è felice se non che da tre giorni che sarà accaduto la moglie ha gli occhi gonfi e rossi di pianto accusa un forte mal di capo non vuole uscire di camera eh gioventù gioventù sospira il professor toti scrollando il capo con un risolino mesto e arguto negli occhi e sulle labbra qualche nuvola qualche temporaletto e con i nì s'aggira per casa afflitto inquieto anche un po irritato perché via proprio non si merita questo lui dalla moglie e da giacomino i giovani non contano i giorni ne hanno tanti ancora innanzi a sé ma per un povero vecchio è grave perdita un giorno e sono ormai tre che la moglie lo lascia così per casa come una mosca senza capo e non lo delizia più con quelle ariette e canzoncine cantate con la voce limpida e fervida e non gli prodica più quelle cure a cui egli ormai avvezzo anche i nì è serio serio come se capisca che la mamma non ha la testa da badare a lui il professore se lo conduce da una stanza all'altra e quasi non ha bisogno di chinarsi per dargli la mano tant'è piccolino anche lui lo porta innanzi al pianoforte tocca qua e là qualche tasto sbuffa sbadiglia poi siede fa galoppare un po' nini sulle ginocchia poi torna ad alzarsi si sente tra le spine cinque o sei volte ha tentato di forzare la mogliettina a parlare male eh ti senti proprio male ma da lennina seguita a non volergli dir nulla pianze lo prega ad accostar gli scuri del balcone e di portarsi nini di là vuole star sola e al buio il capo eh poverina le fa tanto male il capo la vita deve essere stata grossa davvero il professor toti si reca in cucina a cercare d'abordar la servetta per avere qualche notizia da lei ma fa larghi giri perché sa che la servetta gli è nemica sparla di lui fuori come tutti gli altri e lo mette in berlina brutta e scema non riesce a saper nulla neanche da lei allora il professor toti prende una risoluzione eroica recca nini dalla mamma e la prega che glielo vesta per benino perché? domanda ella lo porto a spessino risponde lui oggi è festa qui si annoia povero bimbo la mamma non vorrebbe sa che la trista gente ride vedendo il vecchio professore col piccino per mano sa che qualche malvagio insolente è arrivato fin anche a dirgli ma quanto li somiglia professore il suo figliuolo il professor toti però insiste insiste no a spassino a spassino e si reca col bimbo in casa di giacomino dei lisi questi abita insieme con una sorella nubile che gli ha fatto da madre ignorando la ragione del beneficio la signorina agata era prima molto grata al professor toti ora invece religiosissima com'è lo tiene in conto di un diavolo né più né meno perché ha indotto il suo giacomino in peccato mortale il professor toti deve aspettare un bel po' col piccino dietro la porta dopo aver sonato la signorina agata è venuta a guardar dalla spia ed è scappata senza dubbio è andata ad avvertire il fratello della visita e ora tornerà a dire che il giacomino non è in casa eccola vestita di nero cerea con le occhiaie livide stecchita arcigna appena aperta la porta investe tutta vibrante il professore ma come scusi viene a cercarlo pure in casa adesso e che vedo anche col bambino ha condotto anche il bambino il professor toti non si aspetta una simile accoglienza resta intronato guarda la signorina agata guarda il piccino sorride e balbetta per perché perché non posso non posso venire a non c'è sa fretta a rispondere quella asciutta e dura giacomino non c'è va bene dice chinando il capo il professor toti ma lei signorina mi scusi lei mi tratta in un modo che non so io non credo di aver fatto né a suo fratello né a lei ecco professore lo interrompe un po' rabbonita la signorina agata noi creda pure ne siamo ne siamo riconoscentissimi ma anche lei dovrebbe comprendere il professor toti socchiude gli occhi torna a sorridere alza una mano e poi si tocca parecchie volte con la punta delle dita e il petto per significarle che quanto a comprendere lasci fare a lui sono vecchio signorina dice e comprendo tante cose comprendo io e guardi prima di tutte questa che certe furie bisogna lasciarle svaporare e che quando nascono malintesi la miglior cosa è chiarire chiarire signorina chiarire francamente senza sotterfugi senza riscaldarsi non le pare certo sì riconosce almeno così in astratto la signorina agata e dunque riprende il professor toti mi lasci entrare e mi chiami Giacomino ma se non c'è vede no non mi deve dire che non c'è Giacomino è in casa e lei me lo deve chiamare chiariremo tutto con calma glielo dica con calma io sono vecchio e comprendo tutto perché sono stato anche giovane signorina con calma glielo dica mi lasci entrare introdotto nel modesto salotto il professor toti siede con Nini tra le gambe rassegnato ad aspettare anche qua un bel pezzo che la sorella persuada Giacomino qua no Nini buono dice di tratto in tratto al bimbo che vorrebbe andare a una mensoletta dove luccicano certi gingilli di porcellana e intanto si scapa a pensare che diamine può essere accaduto di così grave in casa sua senza che egli se ne sia accorto per nulla ma D'Alenina è così buona che male può ell'aver fatto da provocare un così aspro e forte risentimento qua anche nella sorella di Giacomino il professor toti che ha creduto finora a una pizza passezzera comincia a impensierirsi e a costernarsi sul serio ah ecco Giacomino finalmente Dio che fisio alterato che aria rabbuffata e com'è ah questo no scansa freddamente il bambino che gli è corso incontro gridando con le manine tese Giammi Giammi Giacomino esclama ferito con severità il professor toti che ha da dirmi il professore s'affretta a domandargli quello schivando di guardarlo negli occhi io sto male ero a letto non sono in grado di parlare e neanche di sostener la vista ad alcuno ma il bambino ecco dice Giacomino e si china a baciare Nini ti senti male riprende il professor toti un po' racconsolato da quel bacio lo supponevo e son venuto per questo il capo è sedi sedi discorriamo qua Nini senti che Giammi ha la bua si caro la bua qua povero Giammi sta buonino ora andiamo via volevo domandarti soggiunge rivolgendosi a Giacomino se il direttore della banca agricola ti ha detto qualche cosa no perché Giacomino turbandosi ancor più perché ieri gli ho parlato di te risponde con un risolino misterioso il professor toti il tuo stipendio non è molto grosso figlio al mio e sai che una mia parolina Giacomino si torce sulla sedia stringe le pugne fino ad affondarsi le unghie nel palmo delle mani professore io la ringrazio dice ma mi faccia il favore la carità di non incomodarsi più per me ecco ma sì risponde il professor toti con quel risolino ancora sulla bocca bravo non abbiamo più bisogno di nessuno ma se io volessi farlo per mio piacere caro mio ma se non devo più curarmi di te di chi vuoi che mi curi io sono vecchio Giacomino e ai vecchi badiamo che non siano egoisti ai vecchi che hanno tanto stentato come me a prendere uno stato piace di vedere i giovani come te meritevoli farsi avanti nella vita per loro mezzo e godono della loro allegria delle loro speranze del posto che si prendono man mano nella società io poi per te via tu lo sai ti considero come un figliuolo che cos'è piangi Giacomino ha nascosto infatti il volto tra le mani e sussulta come per un impeto di pianto che vorrebbe frenare Nini lo guarda sbigottito poi volgendosi al professore dice Giamì bua il professore si alza e fa per posare una mano sulla spalla di Giacomino ma questi balza in piedi quasi ne provi ribrezzo mostra il viso scontraffatto come per una fiera risoluzione improvvisa e gli grida esasperatamente non mi s'accosti professore se ne vada la scongiuro se ne vada lei mi sta facendo soffrire una pena d'inferno io non merito cotesto suo affetto e non lo voglio non lo voglio per carità se ne vada si porti via il bambino e si scordi che io esisto il professor Totti resta sbalordito domanda ma perché glielo dico subito risponde Giacomino io sono fidanzato professore ha capito sono fidanzato il professor Totti vacilla come per una mazzata sul capo alza le mani balbetta tu fidanzato si signore dice Giacomino e dunque basta basta per sempre capirà che non posso più vederla qui mi cacci via domanda quasi senza voce il professor Totti no si affretta a rispondergli Giacomino dolente ma è bene che lei che lei se ne vada professore andarsene il professore casca a sedere sulla seggiola le gambe gli si sono come stroncate sotto si prende la testa tra le mani e geme oddio oh che rovina dunque per questo povero me oh povero me ma quando come senza dir nulla con chi ti sei fidanzato qua professore da un pezzo dice Giacomino con una povera orfana come me amica di mia sorella il professor Totti lo guarda inabetito con gli occhi spenti la bocca aperta e non trova la voce per parlare e e e ci lascia tutto così e e non si pensa più a a nulla non si non si tiene più conto di nulla Giacomino si sente rinfacciare con queste parole l'ingratitudine e si ribella fosco ma scusi che mi voleva schiavo lei io schiavo rompe ora con uno schianto nella voce il professor Totti io e lo puoi dire io che ti ho fatto padrone della mia casa questa questa sì che è vera ingratitudine e che forse ti ho beneficato per me che ne ho avuto io se non il dileggio di tutti gli sciocchi che non sanno capire il sentimento mio dunque non lo capisci non lo hai capito neanche tu il sentimento di questo povero vecchio che sta per andarsene e che era tranquillo e contento di lasciar tutto a posto una famigliuola bene avviata in buone condizioni felice io ho settant'anni io domani me ne vado Giacomino che ti sei levato di cervello figliuolo mio io vi lascio tutto qua che vai cercando non so ancora non voglio sapere chi sia la tua fidanzata se l'hai scelta tu sarà magari un'onesta giovane perché tu sei buono ma pensa che pensa che non è possibile che tu abbia trovato di meglio Giacomino sotto tutti i riguardi non ti dico soltanto per la giatezza assicurata ma tu hai già la tua famigliuola in cui non ci sono che io solo di più ancora per poco io che non conto più nulla che fastidio vi do io io sono come il padre io posso anche se volete per la vostra pace ma dimmi com'è stato com'è accaduto come ti si è voltata la testa così tutto a un tratto dimmelo dimmelo e il professor Totti s'accosta a Giacomino e vuol prendergli un braccio e scuoterglo ma quegli si restringe tutto in sé quasi rabbrivedendo e si schermisce professore grida ma come non capisce come non s'accorge che tutta cotesta sua bontà ebbene mi lasci stare non mi faccia dire come non capisce che certe cose si possono fare solo di nascosto e non sono più possibili alla luce con lei che sa con tutta la gente che ride ah per la gente sgramma il professore e tu mi lasci stare ripete Giacomino al colmo dell'orgasmo scotendo in aria le braccia guardi ci sono tanti altri giovani che hanno bisogno d'aiuto professore in Totti si sente ferire fin nell'anima da queste parole che sono un'offesa atroce e ingiusta per sua moglie e impallidisce allividisce e tutto tremante dice ma D'Alenina è giovane ma è onesta per Dio e tu lo sai ma D'Alenina ne può morire perché è qui perché è qui è qui il suo male nel cuore dove credi che sia è qui è qui ingrato la insulti per giunta e non ti vergogni e non ne senti rimorso di fronte a me puoi dirmi questo in faccia tu credi che ella possa passare così da uno all'altro come niente madre di questo piccino ma che dici come puoi parlare così Giacomino lo guarda trasecolato allibito io dice ma lei piuttosto professore scusi lei lei come può parlare così ma dice sul serio il professor Toti si stringe ambo le mani sulla bocca strizza gli occhi squassa il capo e rompe in un pianto disperato nenni anche lui allora si mette a piangere il professore lo sente corre da lui lo abbraccia ah povero nenni mio che sciagura nenni mio che rovina che sarà della tua mamma ora e che sarà di te nenni mio con una mammina come la tua inesperta senza guida ah che baratro solleva il capo e guardando tra le lacrime Giacomino piango dice perché mio è rimorso io t'ho protetto io t'ho accolto in casa io le ho parlato sempre tanto bene di te io io le ho tolto ogni scrupolo da Marti e ora che ella ti amava sicura madre di questo piccino tu si interrompe e fiero risoluto convulso vada Giacomino dice io sono capace di presentarmi con questo piccino per mano in casa della tua fidanzata Giacomino che soffreddo super la braccia ardente e sentirlo parlare piangere così da questa minaccia giunge le mani gli si fa innanzi e scongiura professore professore ma lei vuol dunque proprio coprirsi di ridicolo di ridicolo grida il professore e che vuoi che me ne importi quando vedo la rovina di una povera donna la rovina tua la rovina di una creatura innocente vieni vieni andiamo via Ninì andiamo Giacomino gli si para davanti professore lei non lo farà io lo farò il grida con viso fermo il professor Toti e per impedirti il matrimonio sono anche capace di farti cacciare dalla banca io ti do tre giorni di tempo e voltandosi sulla soglia col piccino per mano pensaci Giacomino pensaci grazie grazie Grazie.